Il Comune di Napoli ha messo il maxi schermo, l'unico che aveva a disposizione era Scampia, nel parco di Scampia come segnale forte di vicinanza a quel quartiere e come simbolo attraverso quel quartiere e tutta la città. Lo sapete, la mia posizione col San Carlo è per la fine del commissariamento, quindi perché si torni all'ordinarietà. Quando si tornerà all'ordinarietà poi commenteremo quello che noi andremo a fare all'interno del CDA del San Carlo. A noi interessa soprattutto che il San Carlo attraverso la musica si apra la città, quindi con il San Carlo io vedo soprattutto musica, il calcio è il calcio, la musica è un'altra cosa, quindi il mio obiettivo negli anni in cui sono stato presidente del San Carlo e anche oggi da sindaco è perché la maggior parte delle persone possano conoscere il San Carlo e che la straordinaria massa artistica possa attraversare i luoghi della nostra città, quindi io il San Carlo lo abbino a quello che è la sua storia, non tanto al calcio.